Il secondo esercizio è quello che preferisco e ci serve per riportare alla mente tutti i desideri che abbiamo nel cassetto, che abbiamo dimenticati. Quindi, prima di partire con l'esercizio, fai una bella e lunga e dettagliata lista di tutti i desideri, di tutte le cose che vorresti nei prossimi 20, 30, 40 anni. Sei completo e non ti limitare, perché su questa lista dovrai scrivere tutto quello che ti renderà la persona più felice di questo mondo, da qui in poi. Fai l'esercizio e ci vediamo subito dopo. Rileggi questa lista ed immagina di avere già perfettamente realizzato ogni cosa che hai scritto e che hai appena letto. Immagina che tutto quello che hai sempre desiderato sia già tutto tuo ed immagina inoltre di essere su un'isola meravigliosa, nella quale le altre persone che vivono insieme a te godono dello stesso identico beneficio. Quindi, non hai bisogno di preoccuparti del lavoro perché sei a posto, sia tu che i tuoi figli. Non hai bisogno di arrabbiarti, non hai bisogno di soffrire perché hai già soddisfatto ogni tipo di pace. In un paradiso di questo tipo, che cosa fai? Come impieghi le tue giornate? Che cosa fai per passare tutto il tempo che hai disponibile? Scrivi dei libri, leggi delle riviste, suoni uno strumento musicale, qual è la cosa che ti impegna maggiormente? Qual è la cosa che fai ogni giorno perché semplicemente ti diverte, ti diverte farla anche senza motivo, anche senza un vero scopo? Qual è la cosa che fai, che faresti anche senza guadagnare una lira? Qual è la cosa che fai, che faresti anche senza guadagnare una luce?